siamo con il senatore luca de carlo e parliamo di tea de carlo ha presentato l'emendamento che consente la prima sperimentazione in italia che si tiene in lombardia riguardo il riso altre ne seguiranno ed è anche il padre del progetto di legge su questo argomento di che tipo di atteggiamento possiamo parlare in italia rispetto alle nuove tecnologie di evoluzione assistita ma intanto un atteggiamento positivo se pensa che il l'emendamento quello che appunto consente la sperimentazione a terra è stato votato quasi all'unanimità o meglio votato all'unanimità poi il giorno dopo verdi e sinistra di tetra si sono accorti che erano contrari poco male insomma la stragrande maggioranza del parlamento ha votato a fore a dimostrazione di come la ricerca e la scienza siano patrimonio italiano siamo gli eredi di una figura straordinaria come quella di strampelli non possiamo permetterci di dimenticare la genetica dobbiamo spiegare a tutti che non sono gm che anzi sono valorizzare e accelerare ciò che naturalmente accadrebbe in natura con stragrandi benefici come quello di utilizzare meno acqua come quello di essere più resistenti alle malattie e come quello di avere bisogno di meno input credo che questa sia una scienza del futuro a volte sentiamo dire che è meglio che bisogna tornare smettere di produrre per magari acquistare le materie prime laddove costano meno noi crediamo invece che si possa continuare a produrre anzi si possa produrre di più e meglio e questo l'etea sono un esempio straordinario di tutto ciò in europa abbiamo fatto uno straordinario percorso anche lì abbiamo dimostrato e abbiamo convinto gli europei e anche le altre nazioni dell'importanza di queste tecniche li abbiamo separati dagli ogm e oggi possiamo lavorare tranquillamente su quella che sarà sicuramente una ricetta per affrontare anche il cambiamento climatico con gli strumenti con la cassetta degli attrezzi che ci consentiranno di vincere questa sfida lei ha parlato di strampelli ecco dopo il riso probabilmente si affronteranno su altre colture una di queste il grano come il riso una situazione molto difficile in questo periodo lato cambiamento climatico lato mercati anche cosa pensa che potrà cambiare con la ricerca c'è bisogno di più ricerca in questo campo c'è assolutamente bisogno di più ricerca ci sono sempre due atteggiamenti uno di abbandonarci alla decrescita che non è mai felice è uno di mettere in campo tutti gli strumenti che ci consentono di essere avanguardisti come lo è stato strampelli tanti anni fa lo si farà sul riso lo si farà sul grano lo si farà sul pomodoro lo si farà sulla vite i nostri ricercatori già da tempo in laboratorio sperimentano con l'etea e hanno straordinari risultati oggi dobbiamo vedere se gli stessi risultati li abbiamo anche quando trasferiamo la ricerca in campo io sono particolarmente fiducioso c'è sempre stata un po di perplessità appunto sull'ultimo metro l'ultimo passaggio anche perché è sempre stato difficile burocraticamente autorizzarle cosa sta cambiando sta cambiando che oggi c'è un governo che crede nella scienza nella ricerca nella sperimentazione ci sono persone convinte come me come l'assessore vedus che dell'importanza di queste di queste iniziative lo fanno presente ad un ministro super ricettivo e quindi oggi finalmente guardiamo il mondo con un approccio totalmente diverso non ideologico pragmatico ma soprattutto a favore dell'ambiente